Gli inglesi che hanno inventato il football lo chiamano clean sheet, la traduzione letterale in italiano è foglio pulito, in realtà nel calcio tricolore indica ogni partita chiusa senza rete al passivo. Nella speciale graduatoria 2019-2020, bruscamente interrotta a inizio marzo per l'emergenza da coronavirus, c'è una squadra di serie C in vetta alla classifica dei professionisti per capacità di concludere il maggior numero di gare senza centri al passivo. E il Potenza, club quarto dopo 30 turni nel girone C di serie C. La squadra di mister Giuseppe Raffaele alla seconda stagione alla guida dei Rosso-Blu ha infatti archiviato ben 18 partite su 30 con il numero 0 alla voce gol subiti. Nessuno in Italia ha fatto meglio del portiere Raffaele Ioime dei compagni di reparto, capaci di fatto di archiviare il 60% dei match disputati in campionato con la difesa imbattuta. Una distribuzione equa tra casa, 11 incontri con 9 vittorie e 2 pareggi e trasferta con 5 successi e 2 segni X. Nonostante quella dei Rosso-Blu non sia la difesa meno battuta della C, il Vicenza a 12, il Monza a 18, Padova e Regina a 19, il Carpi a 21, il Renate e Monopoli a 22 hanno fatto meglio del meno 23 dei Lucani. Il Potenza guida una speciale classifica, salendo di categoria infatti solo Benevento e Vicenza a 16 tengono il passo, molto staccati invece i club di serie A con le migliori che stazionano al di fuori della top 10. Juventus, Lazio e Milan contano solo 9 gare senza gol al passivo nella stagione 2019-2020, al di là di come andrà a finire una bella soddisfazione per il club di Patron Cagliata.